che merita ultimi 50 metri per il trionfo e guardate il gruppo che non è riuscito, un applauso, l'applauso del trionfo per la sleta contrassegnata ad orsale 39 e 30, seconda piazza per la 168, terza per la 64, quinta piazza per la campionetta del mondo e poi tutto il giusto che sfila allungatissimo ed affronta l'ultima fatica di questa seconda gara, amici miei, davvero un applauso per tutte le ragazze che stanno fermi a casa.